Buonasera, Nello Puglisi, tre finali al torneo 3 pezzette, due trofei portati a casa, con sempre presente ogni anno, sempre protagonista, oggi quattro reti sul set 3 del Marchetti contro la guerra bianca, che ne pensi di questo torneo, della partita e di tutto? Allora, come al solito, come ogni anno, il torneo è fantastico perché ogni estate qua si allungono molti ragazzi, molti bravi che giocano al calcio e quindi un campionato davvero bello. Quest'anno abbiamo fatto una squadra per divertirci perché il tempo passa, quindi giriamo più per divertirci e ci stiamo divertendo, oggi è stata una partita combattuta, quindi ne abbiamo vinto in effettivamente e andiamo avanti fin quando ce la facciamo. Ok, grazie e un bocca al luce. Grazie a voi.